addio asur ecco cinque aziende sanitarie territoriali vaiolo delle scimmie primo caso nelle marche prelevava acqua pubblica abusivamente scoperto dai forestali concorrenza sleale taxi in sciopero per due giorni vl e vis i ritorni di refrigia e di di paola buona serata a tutti voi gentile pubblico di rossini tv e ben ritrovati a rossini news il nostro consueto spazio della sera dedicato all'informazione al telegiornale appunto delle canale 80 di rossini tv notiziario di martedì 5 luglio che apriamo occupandoci di quello che è uno degli indirizzi uno dei provvedimenti politici finora più importanti della giunta acquaroli la proposta di legge della riforma sanitaria che è stata approvata in settimana e presentata questo pomeriggio una riforma che dopo 19 anni fa sparire l'asur unica regionale in favore di cinque nuove aziende sanitarie territoriali una per provincia tempo di riforme per la sanità marchigiana la giunta regionale ha infatti approvato la proposta di legge che dopo 19 anni supera il modello dell'asur unica regionale portando alla nascita di cinque aziende sanitarie territoriali con l'obiettivo di creare un modello che punti a un rapporto più stretto tra ospedali e realtà territoriali e potenziare l'offerta ottimizzando l'organizzazione dei servizi erogati vantaggio è quello di ritornare a un modello più vicino ai territori nel 2003 quando nasceva asur abbiamo visto una centralizzazione della sanità tutto è passato in una unica grande azienda che doveva gestire da ancona tutta la regione oggi vediamo la ridistribuzione in cinque aziende sanitarie territoriali che hanno la possibilità di individuare la governance migliore per il territorio che coincide con quello provinciale è anche la possibilità di sviluppare e una trasversalità una maggiore sinergia tra la rete ospedaliera e appunto i distretti le case della salute le case della comunità questo è molto importante perché rende protagonisti i territori rispetto ad una dinamica che finora li vedeva sempre più poveri e meno pieni di servizi di opportunità è un'inversione di tendenza sicuramente non è solo con una legge l'individuazione e la votazione di una legge che si superano tutti i problemi ma è un nuovo inizio che cambia il modello e il presupposto c'è una una riorganizzazione sistema sulla base della domanda quindi ci sono aziende territoriali più piccole che avranno la disponibilità di risorse finanziarie strumentali di personale e saranno chiamate ad essere autosufficienti nel senso che i cittadini non dovranno trasmigrare tra regioni province diverse ogni azienda dovrà avere la caratteristica dell'autosufficienza della prossimità dopodiché si dovranno naturalmente concentrare tutte le risorse per far sì che si possa dare immediatamente noi pensiamo che questa riforma possa esplicare i suoi effetti entro un anno possa dare i suoi effetti nel più breve tempo possibile tenuto conto che c'è una lunga lista di attesa da parte dei cittadini ci sono degli interventi rinviati c'è una carenza enorme sui servizi territoriali per cui molti vanno a pronto soccorso pur non avendo condizioni di gravità ingolfando i pronto soccorsi e quindi diciamo che è un dopo vent'anni è una riforma significativa dell'assetto della sanità della nostra regione è stato diagnosticato nelle marche il primo caso regionale di vaiolo delle scimmie si tratta di un uomo di 42 anni residente nella provincia scolana e le sue condizioni di salute al momento non sembrano preoccupanti l'infezione è stata scoperta durante una consulenza nell'ambulatorio di infettivologia dell'area vasta 5 di ascoli dove la visita ha denotato un sospetto ingrossamento dei linfonodi il medico ha eseguito un tampone che ha successivamente dato esito positivo al vaiolo delle scimmie il sispa ha comunicato al malato di provvedere all'isolamento domiciliare che sarà di 21 giorni fino alla scomparsa dei sintomi è periodo di siccità lo sappiamo ed è periodo di acqua quanto mai preziosa eppure c'è chi se ne appropria abusivamente e quanto scoperto dai carabinieri forestali di pesaro che hanno rinvenuto in zona monte labate una pompa a motore posizionata a bordo di un invaso di raccolta nell'alvio di scorrimento del fosso scoperto il proprietario della motopompa non possedeva alcuna autorizzazione e ora sarà multato con una sanzione amministrativa che potrebbe arrivare fino a 4000 euro ed ora ci spostiamo alla stazione di pesaro dove i taxisti hanno incrociato le braccia da questa mattina per due giorni di sciopero martedì 5 di luglio siamo di fronte alla stazione ferroviaria di pesaro dove dalle 8 di questa mattina i taxi sono parcheggiati a motore spento sarà così per tutta la giornata odierna e anche per quella di domani uno sciopero a livello nazionale che viene recepito anche dalle imprese dei taxisti del territorio marchigiano concorrenza sleale liberalizzazione eccessiva ed è regolamentata queste alcune delle cause che da oggi bloccano i taxi i turisti che arrivano alla stazione di pesaro non potranno ricevere il servizio servizio che verrà comunque garantito nelle ore notturne così come per i servizi essenziali e di emergenza come trasporti verso ospedali o farmacie fatto sta che per due giorni ci sarà un disagio a questi trasporti per i motivi che ci spiegano i taxisti che abbiamo ascoltato si parla di concorrenza sleale in pratica sono sorti dei soggetti diciamo delle in pratica stiamo parlando in questo caso del caso specifico della uber che non pagano non pagano tasse hanno dei delle agevolazioni che noi non abbiamo caso specifico dello sciopero in questo caso riguarda appunto la concorrenza sleale che tutti diciamo noi siamo già attaccati normalmente dagli abusivi che sembra che insomma si chiude un occhio verso di loro abusivi intendo gente che non è regolarizzata a fare questo determinato servizio gente che si si porta davanti alle discoteche oppure oppure davanti gli hotel e rilascia il proprio numero di cellulare quindi è una concorrenza sasleale ma questa non è regolare ma se poi regolarizziamo il discorso di uber e altri soggetti che lavorano in queste in situazioni diciamo avvantaggiate senza regole chiaramente noi lavoriamo a prezzi fissi concordati regolari e diamo i servizi anche in quelle ore che nessuno di questi soggetti c'è perché non è economico per loro perché inseguono la dinamica del denaro noi invece siamo qui dalla mattina alla sera 24 ore il dramma di questa strategia è che è appoggiata dal governo dal governo draghi cioè che spinge per liberalizzare liberalizzare così intende che ognuno fa quello che vuole cosa vuol dire ognuno fa quello che vuole ci sono più di 150 operatori nelle marche che hanno investito nel loro auto che tutti i giorni fanno un servizio integrativo di quello pubblico l'hanno sempre fatto anche durante il covid sopportando i costi e garantendo soprattutto alle persone di andare in ospedale in farmacia di fare la spesa di non essere isolate dal mondo quindi noi vogliamo semplicemente dire che questo fermo che ci ha costretto proprio a fermare le attività lo dobbiamo fare perché per far capire che la deregolazione di questo servizio è una cosa inaccettabile perché i nostri tassisti hanno dei prezzi regolati fanno un servizio con turnazioni obbligatorie non possiamo accettare che le piattaforme multinazionali entrino nel mercato italiano senza nessuna nessun rispetto di quello che è il lavoro dei nostri operatori anche nelle marche noi ribadiamo questo a pesaro siamo tutti a fermarci sempre però rispettando la richiesta essenziale perché se una persona chiama deve andare in ospedale in farmacia e ha bisogno i nostri taxi anche stamattina si sono mossi per per dare una risposta quindi noi ci siamo sempre e chiediamo di essere ascoltati ci dispiace appunto che il governo che ormai è stato sollecitato su questo tema da due anni non abbia ancora dato una risposta aspettando che la lonely planet arrivi a pesaro con il suo festival ulisse fest previsto dal 15 luglio sono la stessa pesaro e il territorio provinciale a entrare nel frattempo dentro l'only planet con la pubblicazione di una guida di viaggi pocket che è stata presentata nei giorni scorsi nelle salone metaorense di palazzo ducale i paesaggi e i luoghi affascinanti della provincia di pesaro urbino saranno raccontati in un volume tascabile della prestigiosa guida di viaggio lonely planet casa editrice australiana che diffonde indicazioni turistiche in tutto il mondo venerdì pomeriggio nella sala della prefettura di pesaro è stata presentata la prima vera guida per i turisti che arriveranno nel territorio provinciale in grado di accoglierli accompagnarli alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e la spiaggia di fiorenzola di focara fare da copertina al volume come a simboleggiare l'incontro tra il verde della collina e il blu della costa adriatica due elementi caratteristici della superficie provinciale il volume prodotto dall'only planet è stato pensato per una breve vacanza per quei viaggiatori che decidono di spendere qualche giorno nel visitare il territorio ma la forma pochè della guida è stata ideata anche per gli abitanti di quel posto concedendogli la possibilità di capire cosa gli altri vedono di loro dal covid in avanti gli italiani hanno imparato a visitare luoghi non solo distanti ma anche molto vicini a casa e in più a fare vacanze anche più brevi rispetto a quelle diciamo tradizionali la città di pesaro in questo momento è poi sotto gli occhi di tutti c'è si respira una nuova energia una una certa voglia di fare che porta a mettere al centro questa destinazione e quindi è un luogo allo stesso tempo dove dove venire a fare una visita per scoprire le tante bellezze di cui è ricca e allo stesso tempo per fare base e andare alla scoperta di luoghi come il monte san bartolo che a me personalmente ha sorpreso in maniera clamorosa così come qui in città la sonosfera è probabilmente la cosa più sorprendente che consiglio un po a tutti di visitare io credo molto che le città non debbano essere soltanto belle ma debbano avere qualche cosa da offrire debbano mostrare il proprio dinamismo è quello che pesaro sta cercando di fare e speriamo da qui al 2024 di essere compagni in questa bellissima esperienza siamo partiti con le ricerche proprio da pesaro e poi ci siamo estesi all'intera provincia quindi siamo arrivati a fano siamo stati nel monte feltro abbiamo girato il lungo e il largo anche per il san bartolo che ha riservato tantissime sorprese con le sue spiagge le sue ville storiche è un territorio che offre tantissimo soprattutto a chi ama il contatto con la natura abbiamo ovviamente fatto tappa a gradara ad acqua lagna la gola del furlo a caigli in tantissime cittadine di questa provincia ricchissima che offre tanti spunti ai viaggiatori contemporanei ognuno di noi è andato in vacanza almeno una volta con la guida l'only planet e ogni volta che ho preso in mano quella guida ho sperato che si potesse essere una guida sulla nostra terra e oggi è arrivato quel giorno questo per noi è molto importante perché qualifica la nostra terra qualifica pesaro la provincia di pesaro urbino e la riviera del san bartolo e quindi davvero siamo molto contenti è stata straordinaria nella quale siamo partiti nel miglior modo possibile verso la capitale della cultura sappiamo che sarà un lavoro che durerà due anni e mezzo abbiamo definito un crescendo rossignano quindi settimana per settimana dovremo rafforzare la nostra comunicazione i nostri progetti anche la nostra capacità di costruire intorno alla cultura sempre più il nostro sviluppo il nostro futuro le immagini che vi mostriamo ora sono state postate dall'assessore comunale francesca franco e luci e documentano la partenza di questa mattina della navetta el market una nuova linea di autobus che collegherà gratuitamente la zona mare con il mercato settimanale del martedì del san decenzio agevolando anche lo shopping dei turisti nell'occasione di oggi sono state anche consegnate ai clienti del mercato mille ecobag per acquisti senza l'utilizzo di plastica in questi giorni aspe sta effettuando indagini di stabilità del patrimonio arboreo di 25 mila alberi nelle comune di pesaro per un pino che si trova nell'area di sosta davanti alla caserma dell'esercito non è stato possibile trovare soluzioni alternative all'abbattimento a causa di alcune malformazioni alle radici che compromettono la stabilità della pianta rappresentando un rischio per la pubblica incolumità in sostituzione della pianta abbattuta gli addetti aspes provvederanno ora a ripiantare un nuovo pino domestico ci spostiamo a babuce frazione di tavuglia nella quale sorgerà una nuova piazza per un investimento complessivo di 600 mila euro ad annunciarlo il sindaco francesca paolucci in occasione dell'assemblea che si è tenuta ieri sera per la relazione annuale sul monitoraggio ambientale della discarica la nuova piazza sarà un'opera compensativa che verrà realizzata da marche multiservizi che il gestore dell'impianto di discarica un'opera realizzata accanto al centro sportivo che è stato inaugurato nel 2019 e che affaccerà sulle colline del territorio tavugliese questa sera alle 21 nel giardino di villa caprile verrà presentata ippolita maria sforza una vita fra danza e scrittura con l'intermezzo di danze rinascimentali a cura dell'associazione dante antiche ad auco si tratta del primo appuntamento di un ciclo di tre conferenze organizzata dall'associazione fidapa di pesaro a cura della presidente raffaele lavori ed elena bacchielli appuntamenti che proseguiranno martedì 12 e martedì 19 luglio arte e gusto e questo il binomio della decima edizione del più atteso appuntamento estivo nel borgo di novilara pronto ai nastri di partenza dalla 8 di luglio giunta la sua decima edizione dall 8 al 10 luglio riparte l'appuntamento estivo più atteso da novilara tre giorni di evento dove l'arte incontra il gusto e dove le tagliatelle fatte a mano incontrano il vino prodotto artigianalmente novilara arte e gusto è un'iniziativa immersa nel suo borgo storico il tutto a due passi dal mare tra il verde delle colline pesaresi iniziamo il venerdì quindi lotto luglio alla sera e avremo 30 e oltre cantine in degustazione per un percorso appunto degustativo lungo la cinta muraria sono vignaioli artigianali principalmente da fuori da fuori regione e ci piace questo perché arricchiamo il nostro già programma degli anni passati e dove abbiamo un richiamo sulla tradizione gastronomica molto importante come le tagliatelle appunto di novilara ma non solo tutti i piatti locali della tradizione pesarese la cosa bella è che quest'anno aggiungiamo anche l'olio perché avremo la collaborazione con la dop di cartoceto e questo per noi è un vanto perché arriviamo a toccare tutte le nostre eccellenze del territorio dal punto di vista invece artistico il venerdì avremo ospite maria piatimo che un'attrice e cabaretista invece la giornata di sabato dove avremo sempre la degustazione dei vini abbiamo chiamato marta e gialluca che sono un duo di zelig famosissimo simpaticissimi quindi una serata più in simpatia legata poi a un cooking show con dei blogger sia food che travel che vengono da fuori per anche far parlare delle nostre eccellenze al di fuori della nostra regione chiudiamo la domenica il 10 luglio alla mattina per chi vuole ci sarà anche un giro in moto e in bicicletta perché c'è la ciclo tagliatella ma anche la moto tagliatelle per gli amanti delle due ruote come volete quindi sia motorizzati che non e ci sarà appunto un percorso ovviamente diversificato di conoscenza del territorio per poi concludersi a pranzo a novilara è solo su prenotazione vi chiediamo di farlo e chiudiamo poi la domenica alla sera dove c'è un percorso di degustazione olio e vino che è molto particolare anche questo è il numero chiuso e su prenotazione alle ore 19 e poi la manifestazione continua con dei concerti degli spettacoli da obelisco nero a vita max che è un gruppo di milano e quindi è una diciamo una manifestazione che raccoglie tantissime cose e quindi non vediamo l'ora di condividerlo con voi parliamo ora di diverse notizie sportive perché entra nel vivo il calcio mercato della vispesero che oggi ha ufficializzato un grande ritorno quello di manuel di paola centrocampista 25enne che torna pesero dove ha giocato nel 2020 2021 con una super stagione da 7 gol e 3 assist in 25 presenze un grande ritorno corredato da un contratto biennale fino a giugno 2024 ed invece era invece un ritorno già noto quello di jasmin repe già sulla panchina della vl ora però c'è anche la data di partenza della seconda avventura dell'allenatore croato a pesero repe già sarà infatti ufficialmente presentato giovedì 7 luglio alle ore 19 a villa catani stuart e nella stessa occasione verrà anche presentato il rinnovo di sponsorizzazione con carpegna prosciutto calcio basket e ora ciclismo 74 chilometri e oltre mille metri di dislivello queste le caratteristiche della prima edizione della gara rossini raffaello che domenica ha visto 145 giovani ciclisti partecipare al primo atto di quella che potrebbe diventare davvero una classica per il nostro territorio è stato il laziale emanuele rocchi del pirata official team a vincere la prima edizione della gara ciclistica in linea rossini raffaello primo memorial marco ragnetti che ha visto l'iscrizione di 145 giovani di categoria allievi di 28 squadre differenti provenienti da 11 regioni italiane una gara che si svolta domenica con partenza da piazza del popolo a pesero e arrivo ad urbino sotto i torricini ducali in 74 chilometri con un dislivello di 1060 metri gara giovanile che ha incoronato rocchia la quarta vittoria stagionale davanti al romano leonardo consolidani del team coratti e terzo posto per mattia proietti gagliardoni della squadra di foligno una gara dura come ho già detto prima sulla prima salita sono rimasto in gruppo non mi sono mostro non ho sprecato energie poi dalla seconda salita abbiamo cominciato ad aprire il gas sono rimasto con altri due corridori sapevo di essere più veloce ho aspettato la volata finale sicuramente dura soprattutto per il grande caldo fin da dalle prime battute di gara purtroppo un piccolo incidente meccanico mi ha costretto a fermarmi durante la prima scalata per fortuna sono riuscito a risolverlo sono riuscito a battere questo buon secondo posto veramente molto contento complimenti a emanuele perché ha fatto veramente una grandissima gara appena è iniziata la salita ho cercato subito di fare la differenza ci sia ci sono riuscito infatti dopo 23 chilometri già eravamo rimasti in tre ho continuato a provare per cercare di svalicare da solo però non c'è stato nulla da fare l'ultimo che gli ultimi 300 metri quando mi sono alzato in piedi per fare la volata ho avvertito un po di dolore alle gambe però non ho scuse perché sono stati nettamente più forti di me podio a parte è stato un successo di partecipazione e organizzazione quella apparecchiata da un gruppo di amici appassionati come Maurizio Radi Michele Sgherri Giacomo Rossi Gianmarco Fedrigucci Filippo Beltrami Alighiero Omiccioli e Ivan Cecchini diciamo che siamo orgogliosi di aver costruito un evento incredibile nell'arco di 3-4 mesi abbiamo fatto questa prima edizione della Rossini Raffaello il ricordo di Marco Ragnetti e dobbiamo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano eravamo più di 250 sulle strade che è una cosa fondamentale perché poi alla fine se non ci sono questi qua che ragazzi volontari che si fermano per garantire la sicurezza ai corridori non potremo realizzare diciamo un evento di questo genere una gara di ragazzini giovani che fanno sport e che sperano nel ciclismo di magari un giorno trovare il loro futuro cosa che oggi è sempre più difficile vedere giovani che fanno attività sportiva attività sportiva agonistica e soprattutto un'attività sportiva come il ciclismo che veramente impegna tanto e che già da giovani gli chiede sacrificio quindi siamo qua per cercare di stimolarli sempre di più dannogli una mano da un punto di vista organizzativo e cioè portarli a casa loro a pesaro questi ragazzi e nelle marche una nuova manifestazione perché oggi il problema di stimolare questi ragazzi a fare attività è anche proprio la problematica della carenza delle gare a livello nazionale ci sono sempre meno gare ci sono sempre meno società che fanno attività agonistica quindi noi con questa nuova manifestazione con questa pesaro urbino rossini raffaello vorremmo cercare di riportare entusiasmo nella nostra provincia perché ormai sono tantissimi anni che da noi addirittura mancano società sportive a livello giovanile nel ciclismo e soprattutto che mancano anche competizioni una prima edizione della gara che è stata dedicata alla memoria del compianto marco ragnetti giovane ciclista pesarese dell'alma juventus fano tragicamente scomparso nei mesi scorsi dopo un incidente stradale ringrazio veramente tutti per aver organizzato una cosa del genere perché marco si teneva veramente è iniziato col ciclismo perché era una mia passione ha iniziato così giusto per divertimento poi se l'era presa veramente cuore siamo venuti siamo andati alla presentazione di questa gara dove aveva dato veramente voglia di di fare veramente bene poi purtroppo è successo quello che è successo è andato un po così io veramente sto ringrazio soprattutto maurizio anche del fisiradio un po la squadra l'alma juventus fan un po tutte le persone che sono dedicate a organizzare questa gara in memoria di marco non a livello proprio familiare vogliamo dire veramente grazie a tutti e si conclude qui l'informazione di rossini news ma non si concludono gli appuntamenti di questo martedì sera su rossini tv che alle 21 e 20 vi propone il nostro speciale realizzato in occasione della presentazione del bilancio di sostenibilità di marche multiservizi andremo a capire appunto i dettagli di questa relazione relativa alla sostenibilità dell'azienda multi utility a seguire alle 21 e 40 spazio alla cultura allo spettacolo e alla magia della storia medievale del fantastico borgo di gradara col nostro speciale realizzato in occasione dei giovedì al castello ed è davvero tutto per questa sera da parte mia e di tutta la redazione il più sentito ringraziamento per averci seguito e vi auguriamo anche una buona serata in compagnia dei nostri programmi